Bella a tutti raga, bentornati al mio canale Ciao Oggi faremo il video Praticamente la vendetta Non lo so, si vuole vendicare In realtà sono io che dovrei vendicarmi Scusami, tu hai guardato le donne mezzanuda Eri lì Di sicuro riguarda la vendetta No Comunque Questa è una compilation praticamente di ragazzi di tiktok che twerkano E sono senza maglietta in sostanza Vabbè ma Non mi vuoi picchiare perché sennò è violenza sulle donne Vabbè ti tiro qualche pacchetta Che hai visto? Che ho visto? Niente Eh Eh? Lui non soprattutto Vabbè oh ma guarda scusami Guarda qua C'era le montagne Dai non mi guardare Dai che ti guardo Mi metti l'ansia Come tu hai guardato Mai guardo anche io te Non ho fatto niente adesso So che sbatti le palpebre Non è che ti conosco Ma questo non mi piace No ti giuro Questo proprio no E qua c'è me la spalla A parte i tatuaggi Però vabbè Aia Con quello si ribagia Si ribelli Perché Aia Di faccia non mi piace per niente No Aia Non ho fatto niente E perché se ne andate indietro Vabbè Cioè Non posso muovermi Si Non mi piace la faccia Non so quello C'è sotto Però Non mi piace la faccia Ne No Non mi piaceva Calzatore Aia Si vabbè Ma dai Gente Ma questo è solo Videobook Senti Gioca una calcio Scusami Ma gioca una calcio Ma che gioca una calcio Eh appunto Infatti è che tu mi piaci Si No guarda Ah ma è proprio un tren Non piace Cioè Ne ti fozzo Ne fisicamente No Basta Ma ci ho finito Ma si può fare un altro se vuoi Vabbè Ho finito comunque Non penso proprio Non ho guardato nessuna Non penso proprio Cosa ho guardato Scusa Quello che ho guardato io Cioè Gli addominali E anche un sedere Vabbè ma scusami Non è colpa mia Quelli là ce li avevano Che sono le pallacini Ehm 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 Grazie.